Papa Francesco, Angelus, 26 dicembre 2021 Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe Oggi festeggiamo la Santa Famiglia di Nazareth. Dio ha scelto una famiglia umile e semplice per venire in mezzo a noi. Quindi contempliamo la bellezza di questo mistero, sottolineando anche due aspetti concreti per le nostre famiglie. Il primo, la famiglia è la storia da cui proveniamo. Ognuno di noi ha la propria storia, nessuno è nato magicamente con la bacchetta magica, ognuno di noi ha una storia, e la famiglia è la storia da dove noi proveniamo. Il Vangelo della liturgia odierna ci ricorda che anche Gesù è figlio di una storia familiare. Lo vediamo viaggiare a Gerusalemme con Maria e Giuseppe per la Pasqua. Poi fa preoccupare la mamma e il papà, che non lo trovano. Ritrovato, torna a casa con loro. E' bello vedere Gesù inserito nella trama degli affetti familiari, che nasce e cresce nell'abbraccio e nelle preoccupazioni dei Suoi. Questo è importante anche per noi. Proveniamo da una storia intessuta di legami d'amore. E' la persona che siamo oggi non nasce tanto dai beni materiali di cui abbiamo usufruito, ma dall'amore che abbiamo ricevuto, dall'amore nel seno della famiglia. Forse non siamo nati in una famiglia eccezionale senza problemi, ma è la nostra storia. Ognuno deve pensare. E' la mia storia. Sono le nostre radici. Se le tagliamo, la vita inaridisce. Dio non ci ha creati per essere condottieri solitari, ma per camminare insieme. Ringraziamolo e preghiamolo per le nostre famiglie. Dio ci pensa e ci vuole insieme. Grati, uniti, capaci di custodire le radici. E dobbiamo pensare a questo. Alla propria storia. Il secondo aspetto A essere famiglia si impara ogni giorno. Nel Vangelo vediamo che, anche nella santa famiglia, non va tutto bene. Ci sono problemi inattesi, angosce, sofferenze. Non esiste la santa famiglia delle immaginette. Maria e Giuseppe perdono Gesù, e angosciati lo cercano. Per poi trovarlo dopo tre giorni. E quando, seduto tra i maestri del tempio, risponde che deve occuparsi delle cose del padre suo, non comprendono. Hanno bisogno di tempo per imparare a conoscere il loro figlio. Così, anche per noi, ogni giorno, in famiglia, bisogna imparare ad ascoltarsi e capirsi, a camminare insieme, ad affrontare conflitti e difficoltà. È la sfida quotidiana, e si vince con il giusto atteggiamento, con le piccole attenzioni, con gesti semplici, curando i dettagli delle nostre relazioni. E anche questo ci aiuta tanto parlare in famiglia, parlare a tavola, il dialogo tra i genitori e i figli, il dialogo tra i fratelli, ci aiuta a vivere questa radice familiare che viene dai nonni. Il dialogo con i nonni E come si fa questo? Guardiamo a Maria, che nel Vangelo di oggi dice a Gesù, tuo padre e io ti cercavamo. Tuo padre e io. Non dice io e tuo padre. Prima dell'io c'è il tu. Impariamo questo. Prima dell'io c'è il tu. Nella mia lingua c'è un aggettivo per la gente che prima dice l'io, poi il tu. Io, me, e con me, e per me, e al mio profitto. Gente che è così. Prima l'io, poi il tu. No, nella sacra famiglia, prima il tu e dopo l'io. Per custodire l'armonia in famiglia, bisogna combattere la dittatura dell'io, quando l'io si gonfia. È pericoloso quando, invece di ascoltarci, ci rinfacciamo gli sbagli, quando, anziché avere gesti di cura per gli altri, ci fissiamo nei nostri bisogni, quando, invece di dialogare, ci isoliamo con il telefonino. È triste vedere a pranzo una famiglia, ognuno con il proprio telefonino, senza parlarsi, ognuno parla con il telefonino. Quando ci si accusa a vicenda, ripetendo sempre le solite frasi, inscenando una commedia già vista, dove ognuno vuole aver ragione, e alla fine cala un freddo silenzio. Quel silenzio tagliente. Freddo. Dopo una discussione familiare. È brutto quello. Bruttissimo. Ripeto un consiglio. Alla sera, dopo tutto, fare la pace. Sempre. Mai andare a dormire senza aver fatto la pace, altrimenti il giorno dopo ci sarà la guerra fredda. E questa è pericolosa, perché incomincerà una storia di rimproveri, una storia di risentimenti. Quante volte, purtroppo, tra le mura domestiche, da silenzi troppo lunghi e da egoismi non curati, nascono e crescono conflitti. A volte si arriva persino a violenze fisiche e morali. Questo lacera l'armonia e uccide la famiglia. Convertiamoci dall'io al tu. Quello che deve essere più importante nella famiglia è il tu. E ogni giorno, per favore, pregare un po' insieme, se potete fare lo sforzo per chiedere a Dio il dono della pace in famiglia. E impegniamoci tutti, genitori, figli, chiesa, società civile, a sostenere, difendere e custodire la famiglia che è il nostro tesoro. La Vergine Maria, sposa di Giuseppe, mamma di Gesù, protegga le nostre famiglie.